Le prime notizie di giovedì 9 maggio. Una donna di 56 anni, di grottaglie, Giustina Lerna, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 7 Brindisi Taranto all'altezza dello svincolo per Villa Castelli. La sua Fiat Stilo si è schiantata contro un daily furgonato condotto da un cittadino albanese ricoverato in codice rosso all'ospedale per Rino. Sono due gli indagati per la morte del 46enne Vincenzo Valente, l'operaio stritolato nel nastro trasportatore dello zuccherificio SRB di Brindisi. Stefano Morelli, titolare dell'azienda SEDEC, di cui Valente era dipendente, e Riccardo Casoni, direttore dello zuccherificio, rispondono di omicidio colposo aggravato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. È stata secretata l'audizione del procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia. È stato lo stesso magistrato ad avanzare richiesta alla presidente Chiara Colosimo perché ci sono vicende che fanno riferimento a indagini ancora in corso. Un incendio ha completamente distrutto il bar della stazione di servizio Real Carburanti a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, il ruogo non ha raggiunto le bombole di GPL e le pompe di benzina poco distanti. Probabile l'origine dolosa. È sempre nel Salento, ma a Gallipoli le fiamme hanno distrutto l'Audi Q5 del consigliere comunale Ugo Ghiaccio, che a delega ai servizi cimiteriali e alle marine. Anche qui c'è l'ombra del dolo. Un'azienda edile nel mirino a Rignano Garganico dove è stata incendiata una ruspa con una bomba carta. Il mezzo era di proprietà di una ditta di Apricena che si sta occupando dei lavori per la pubblica amministrazione. Quattro persone sono state arrestate, una in carcere, tre ai domiciliari e beni per circa due milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Barletta per una presunta frode legata agli incentivi fiscali del bonus facciate e altre ristrutturazioni. Tra gli arrestati un consulente fiscale di Barletta. Un detenuto ha tentato la fuga ieri mattina dagli uffici del giudice di pace di Sansevero dove era stato condotto per un'udienza. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria di Foggia e ricondotto in carcere dopo aver morso un poliziotto. Collegamento a luci rosse in commissione attività produttive al comune di Taranto. Per circa 30 secondi si sono sentiti in aula gemiti di evidente intimità di un consigliere comunale di maggioranza collegato da remoto e di una donna mentre era in corso un dibattito sulle questioni del porto Tarantino. Ci ha pensato la segretaria della commissione a spegnere il microfono. Sono oltre 2 milioni 558 mila i passeggeri transitati negli aeroporti di Bari e Brindisi nei primi quattro mesi del 2024 ossia il più 3,3 per cento rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno. L'incremento totale di passeggeri tra Bari e Brindisi solo ad aprile è dell'8,89 per cento. Meteo oggi torna il maltempo concentrato in gran parte sul Salento Ionico e nel Barese al confine con la Basilicata. In entrambe le zone è allerta gialla sino alla sera per piogge sparse e qualche temporale. Meno probabili rovesci su Foggiano e versante Adriatico. Temperature massime sino a 23 gradi. Venti settentrionali con rinforzi da molto mosso a mosso il mare Adriatico. Queste le prime notizie di oggi appuntamento a domani.